Aspirine Aspirina Aspirine Aspirina Gant Guanti Gant Guanti Ciso Forbici Ciso Forbici Comprimé Compressa Comprimé Compressa Antibiotic Antibiotici Antibiotic Antibiotici Portobloc Appunti Portobloc Appunti Kit Kit de premier secours Kit di primo soccorso Kit de premier secours Kit di primo soccorso Stetoscop Stetoscop Stetoscopio Stetoscop Stetoscopio Badge nominatif Badge nominatif Tesserino Badge nominatif Tesserino Microscope Microscop Microscopio Microscop Microscop Microscopio Pillule Papier toilette Carta igienica Carta igienica Crayon Matita Crayon Matita Radio Radjix Radio Radjix Aiguille Siringa Aiguille Siringa Ruban adesif Nastro Ruban adesif Nastro Fotei roulant Sedia a rotelle Fotei roulant Sedia a rotelle Perfusion Sacca di sangue Perfusion Sacca di sangue Scalpel Scalpel Bisturi Scalpel Bisturi Ampoule Fiala Ampoule Fiala Thermomètre Termometro 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 Marteau a reflex Martelletto per i riflessi Marteau a reflex Martelletto per i riflessi Martelletto per i riflessi Lunette Occhiali Lunette Occhiali Becchie Becchie Stampelle Stampelle Becchie Stampelle Poncement Cerotto Poncement Cerotto Pipette Gocce per gli occhi Pipette Gocce per gli occhi Gocce per gli occhi Pinzetti 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 Grazie a tutti.